Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene, intanto grazie per chi ci si è messo in ascolto. Prima di incominciare la trasmissione vera e propria, che ricordo che la trasmissione Ricordo che la trasmissione continua il discorso sugli oracoli caldaici che porteremo avanti per molte, 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 molte trasmissioni. Penso che arriveremo grosso modo a fine anno o forse anche a inizio dell'anno prossimo, perché mi sto accorgendo che l'analisi degli oracoli caldaici è più importante di quanto pensavo all'inizio. All'inizio pensavo una cosa meno importante invece un po' alla volta andando avanti e alterando leggermente la percezione arrivo a vedere delle cose veramente incredibili al di là degli oracoli e di ciò che gli oracoli hanno rappresentato e possono dare per il futuro. Per cui il discorso sugli oracoli andrà molto avanti. Ma prima di parlare degli oracoli caldaici voglio raccontare un po' cosa è successo sabato qui a Radiogamma. Allora, la settimana scorsa mi ha telefonato un ragazzo anche lui di Bologna dicendomi che c'era una troupe di giornalisti che stava preparando, della RAI, che stava preparando uno speciale sulle sette, sui gruppi, su quello che è il paganesimo, quella che è la stragonaria, quello che è un po' il satanismo, quello che sono un po' varie cose che si stanno muovendo sul territorio e stavano contattando un po' di persone e lui mi ha chiesto il permesso di dargli il mio indirizzo, il mio nome, se mi andava bene. Naturalmente io siccome non ho niente in contrario gli ho detto di sì e mi ha telefonato la RAI dicendomi che loro stavano preparando questo servizio, questo speciale, se potevano venire a intervistarmi per inserire in questo speciale. Praticamente loro hanno visto il mio sito su internet che mi aveva fatto questo ragazzo di Bologna dove sono presentati una buona parte dei miei libri e siamo messi d'accordo che sabato alle 17 avrebbero dovuto essere qui in radio a Radiogamma. Io ho avvertito sia il presidente che la cooperativa, erano tutti d'accordo anche di lasciare lo spazio necessario per fare le riprese televisive. Erano qui ad aspettarli, siccome dicevano che partivano da Bologna l'una e l'una e mezza, li avevamo aspettati dalle 3, avevamo aspettato l'orale dell'appuntamento alle 5, non si sono fatti vivi, erano così sicuri che sarebbero venuti comunque e in ogni caso che non ci siamo neanche scambiati i numeri di telefono. Alle 6 eravamo ancora qua a spettarli e non c'era ancora nessuno che era arrivato, allora abbiamo deciso di lasciar perdere e tornare a casa. Quando sono arrivato a casa a Marghera c'erano due messaggi sulla segretaria telefonica che mi dicevano che loro erano già arrivati a Radio Gamma e che si scusavano perché avevano avuto intoppi, problemi, ritardi eccetera. Ho telefonato qui a Radio Gamma, mi hanno detto che i giornalisti erano qua fuori che aspettavano per cui mi sono messo in contatto con i giornalisti e siamo messi d'accordo per fare lo stesso l'intervista. Chiaramente non potevo più avvertire Francesco, non potevo più raggiungere altre persone, mia moglie poi era stanchissima. L'ho assoluto io da solo in radio e alle 8 di sera circa abbiamo fatto delle riprese. Grazie e devo ringraziare gli speaker di Radio Gamma che si sono prodigati anche ad aiutarmi, darmi una mano lasciandomi un po' lo spazio della regia. La RAI ha fatto una serie di riprese qui in regia, non ha trovato il logo della radio e questo purtroppo verrà fatta un po' meno pubblicità alla radio, nel senso che tutte le radio esaltano se stesse, mentre invece la Radio Gamma proprio perché la migliore radio del Veneto esalta i contenuti o quello che riesce a fare dei contenuti più che l'immagine in sé. Nella regia abbiamo mandato due interviste, vi ricordate il giovedì scorso? Cioè due telefonate, vi ricordate il giovedì scorso? Il giovedì scorso per fortuna poche persone hanno telefonato e questo mi ha permesso proprio di usare quella cassetta. Ho fatto sentire la telefonata dell'amica che chiedeva qualcosa sugli oracoli caldaici, il padre che sottrae se stesso e la telefonata di quella persona che diceva che lei erano tre in famiglia e che avrebbe firmato per il 740 per la Chiesa Cattolica e che noi eravamo paranoici o una cosa del genere, non mi ricordo, quelle due telefonate che sono emblematiche, sono sintomatiche di una persona che segue con attenzione quello che noi stiamo presentando e un'altra persona che non può fare a meno di non seguire ma che vive la rabbia e l'odio, che è la stessa rabbia e lo stesso odio che ha acceso i roghi dell'inquisizione, che ha costruito i campi di esterminio, che ha fatto massacrare milioni e milioni di persone. Le due telefonate erano sintomatiche di una persona che cerca di costruire la vita e una persona che cerca di distruggere la vita. Per cui ho fatto sentire quelle telefonate con delle brevissime risposte che però non l'ho mandato in onda, ho fatto direttamente alla radio. Cioè ho fatto direttamente in telecamera senza mandarle in onda. Dopodiché ho fatto un po' di recitazione perché siccome c'era bisogno di immagini, mettere su cassette, gesticolare un po' sciocchezze di questo genere. E infine abbiamo fatto una brevissima intervista di 5-10 minuti, forse più 5 che non 10, 5 minuti, in cui risposte brevissime a domande brevissime, nel senso che non si è in grado di pensare la risposta, chiaramente è una cosa immediata e riuscire a riassumere il pensiero in poche battute, è difficilissimo. Anche perché a quei giornalisti non gli ne frega niente del lavoro che stiamo facendo. Gli interessa l'immagine, cioè gli interessa dire sul territorio che ci sono questi pazzi che fanno queste cose. Fra le altre cose una delle domande era quanti siete? Cioè questa necessità di sapere numericamente quanti si è. Cioè come se noi stessimo tentando di convertire delle persone, di fare una massa per agire. Cioè quello che a noi ci interessa è diffondere un pensiero, un sentire, una percezione del mondo. Costruire una costruzione della vita, una lettura della vita da affiancare a quelle monoteiste e poi chiaramente a cambiare il modo della vita. Per cui non è che ci interessa tanto quanti siamo. Certo fa comodo sapere che molte persone lavorano, fa comodo sapere di avere molti amici che ti camminano assieme. Fa comodo sapere che tante persone si sforzano perché quello che fai è importante, è importante per loro ed è importante anche per loro sforzarsi a diffondere un pensiero e arricchirlo col loro apporto. Anzi forse meglio ancora sarebbe se superassero me e andassero oltre. Questo è importantissimo sapere questo, però non è il numero che è importante. Non stiamo facendo un'elezione politica per cui si contano i voti o un sapere quanti sono le persone con te e quelle contro di te. Questa è una cosa da cattolici. In questo momento quello che a noi interessa è diffondere il nostro pensiero, diffondere la nostra visione, il nostro sentire, la nostra percezione del mondo. Può darsi che un giorno verrà anche il momento in cui bisognerà fare anche una conta per avere degli spazi a livello sociale, per avere delle modificazioni giuridiche, per avere tante cose. Il sistema sociale in cui viviamo impone delle regole che sono anche regole di procedura, cioè non esiste un modo di agire perché io voglio che sia così. Esistono delle regole che dicono tu per ottenere, per esempio che i bambini siano soggetti di diritto costituzionale devi far approvare una legge dal Parlamento che riconosca questo e che imponga ai magistrati di riconoscere ai bambini quali soggetti di diritto costituzionale. Bene, occorre attivare tutta una serie di procedure per arrivare a questo. Può darsi che un giorno questo sia necessario ma può darsi anche che la classe politica lo faccia senza che sia necessario che dei pagani si attivino. Cioè tante cose è possibile per cui contarsi in certe situazioni è importante ma nella nostra situazione non è importante. Cioè è bello sapere che il pensiero corre, che tante persone lo sentano, che il numero di insulti è minore, che sono minore le persone che vorrebbero accendere i rughi. Sarebbe bellissimo questo però insomma non è questo che ci interessa in questo momento. Mentre invece al giornalista mi interessa quanti siete, cosa fate, la morbosità, queste sono le cose che interessano essenzialmente non tanto il lavoro quotidiano, sistematico che si tenta di fare. L'intervista era brevissima ed era funzionale questo. Chiaramente io so benissimo che la RAI non ha nessun interesse a favorire quello che io sto facendo. La RAI sistemerà, se manderà quel speciale, perché adesso c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, poi fra poco ci sono le elezioni europee e la programmazione di quello speciale è prevista prima della fine di giugno, però potrebbe anche saltare. Non è detto che vada in onda, però sicuramente faranno in modo di mettere in cattiva luce quello che faccio, cioè sicuramente sputtaneranno o comunque non daranno rilievo più di tanto a quello che sto facendo. Questo è chiaro insomma. Per loro è conoscenza, è immagini e avere qualcosa da archiviare che un giorno può sempre servirgli. Ecco questo è il senso dell'intervista ai RAI. Detto questo, questo è il discorso. L'unico soggetto che ne viene fuori bene, cioè che se comunque verrà fatta quell'intervista, verrà mandata in onda, sarà la radio, cioè la radio che assumerà prestigio come una radio che è attenta a tutte quelle che sono le sollecitazioni del sociale e che è in grado di presentare qualunque cosa perché ha la forza, ha la forza etica, ha la forza morale di essere presente in qualunque situazione e di poter affrontare qualunque cosa. Per cui chi ne viene fuori veramente bene da questo, chi ne potrà trarre vantaggio è l'atteggiamento etico della radio, cioè una radio che è attenta al territorio, una radio che è attenta alle sollecitazioni, una radio che non ha problemi di portare voci anche in contraddittorio ai propri microfoni perché saranno sempre delle cose positive, creano dibattito, creano scontro, creano crescita comunque fra le persone e questa è l'unica cosa veramente importante. Dopodiché chiaramente non mi faranno pubblicitarmi, anzi tenteranno di sputtanarmi in tutti i modi possibili e immaginabili e hanno anche le immagini per farlo, per cui andiamo tranquilli, non c'è problema. Naturalmente quello che a me mi interessa non è tanto essere sputtanato o non essere sputtanato, quello che a me interessa è non aver paura di farmi sputtanare, cioè non aver problemi di affrontarli, questa è la cosa più importante. Detto questo, penso che sia stato abbastanza chiaro di quello che è successo sabato, insomma. Detto questo passiamo invece a quello che è il modello 740. Vi ricordo che fra poco c'è da firmare il modello 740, c'è da firmare per l'8x1000 e io vi prego non firmate per la Chiesa Cattolica né per nessun'altra confessione religiosa che comunque è sempre cristiana. Firmate per lo Stato. Lo Stato vi può stare sulle scatole, vi può dar fastidio, vi può essere rognose, però farà comunque meno danno che non firmare per la Chiesa Cattolica. Per cui quando andrete a firmare il 740 dovrete scegliere dell'8x1000, datelo allo Stato, non datelo alla Chiesa Cattolica. Firmare per lo Stato significa sottrarre anche una percentuale di chi non firma. Per cui significa favorire comunque, significa favorire comunque un maggior introito per lo Stato e un minor introito per l'orrore cattolico. Mi raccomando. Detto questo faccio l'ultima cosa prima di cominciare gli oracoli caldaici e vi ricordo che quest'estate ad agosto andremo sull'altipiano di Asiago a fare il nostro rito, cioè l'unico rito a parte la cena del musso che abbiamo come pagani veneti, cioè nella nostra congrega a quello che facciamo sistematicamente. In cosa consiste questo rito? Niente, consiste praticamente in un ritrovo, in una passeggiata, consiste in un cerchio che alcuni fanno e altri non fanno, anche perché vabbè, e consiste dopo nel ritornare dalla passeggiata, ritornare indietro, ritornare a casa, consiste e consiste nel andare a mangiare tutti insieme, insomma praticamente c'è una cena dove ognuno paga la romana, per cui non c'è nessun problema, cioè ognuno paga la sua parte. Si è in tot, si divide per tot e si paga la sua parte. Se uno mangia il doppio sono fatti i suoi, se uno mangia la metà sono fatti i suoi. Questo è in sostanza il discorso. Perché lo sto dicendo così presto? Ve l'ho già detto, lo ripeterò, spero, quasi ad ogni trasmissione, perché vorrei che ogni partecipante quest'anno preparasse il suo mazzetto di piante aromatiche, delle sue piante aromatiche, di quello che a lui piace, per essere bruciato. Lo preparasse, lo tagliasse, lo lasciasse seccare per quel tempo che serve. Normalmente per seccare delle piante, lasciandole all'aria aperta, penso che un mese sia più che sufficiente, o anche di più, dipende poi anche dalla grossezza, è importante che bruci abbastanza presto. È un mazzetto, diciamo, che unendo il pollice l'indice più o meno di questa grossezza, forse un po' più grosso, è lungo un 10-20 centimetri, cioè non serve un grande mazzo, anche perché non dobbiamo fare un falò, dobbiamo fare un piccolo fuoco rituale di ringraziamento al mondo che ci circonda. E naturalmente io o Francesco o gli altri che sono venuti, ricordo che non ti prendo le telefonate e gli altri che non sono venuti e che sono già venuti, possono invitare qualcun altro tenendo presente la riservatezza di quello che noi stiamo facendo. Cioè è una cosa riservata e privata quello che stiamo facendo, non è una cosa pubblica, cioè non è il rito pubblico, è una cosa fra noi. Per cui se qualcuno vuole venire non fa altro che prendere contatti con me, ci parliamo un pochino e vediamo un attimino. E se qualcun altro può prendere contatti con Francesco o con qualcuno con cui ha dei rapporti, insomma, vediamo un po' quello che si può fare. Non dico sempre di sì, non dico sempre di sì. Cerco di trovare quelle persone che abbiano una sensibilità per la magia, più che un interesse speculativo. Vabbè, qualche volta va bene, qualche volta no, ma non è importanza. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate e detto questo passiamo agli oracoli caldaici. Passiamo agli oracoli caldaici e siamo arrivati al frammento 20 barra 2 degli oracoli che stiamo leggendo. Vi ricordo che io come oracoli caldaici seguo una sequenza precisa ed è quella pubblicata dalla Burr. Sono intascabili, credo venga venduto a 17.000 lire gli oracoli caldaici della Burr. Perché questo? Perché quella sequenza mi ha attratto, cioè come questo personaggio che ha fatto gli oracoli caldaici l'ha messo giù, si chiama Angelo Tonelli e ha afferrato la mia attenzione. In estragonaria quando qualcosa ti afferra l'attenzione è bene guardare che cos'è. Bene, guardando che cos'è ho cominciato a lavorarci sopra. Lavorandoci sopra, adesso ho appena scritto ieri, credo, sono arrivato a commentare l'oracolo 56, per cui sono quasi 200. Ce n'è del lavoro ancora, no? Quello che vi sto leggendo è il 20 barra 2 e mi sto accorgendo che il lavoro è molto, veramente molto grosso. Cioè fanno un riassunto di quello che è la magia e la stregoneria dal punto di vista religioso, dal punto di vista pagano. Bene, prima di partire vi mando due minuti di musica e mi prendo un attimo da bere. Pazienza per due minuti solo. Scusate, sono qua. Di solito lo preparo prima, stavolta invece non l'ho fatto. Allora, cominciamo con gli oracoli caldaici e il 20 barra 2 abbiamo detto. Il 20 barra 2 come frammento dice, intuibile che in sé stesso l'intuente contiene. E questa è tutta la frase, alcune frasi sono brevissime, alcuni frammenti sono brevissimi. È importante questa affermazione perché un individuo è parte del mondo che lo circonda. Essere parte del mondo che ci circonda ci permette di nuotare nel mondo e non diventare padrone del mondo, come i cristiani avrebbero voluto indicare l'essere umano affinché distruggendo il suo sentire distrugga la sua possibilità di intuire quanto lo circonda e quanto circondandolo tenta di intuirlo. Il termine nuotare nell'intuizione del mondo oppure nuotare nel sentire del mondo è un concetto assolutamente estraneo alla cultura cristiana e cattolica in particolare. Il mondo per il cristianesimo è prodotto del Dio padrone e l'essere umano è delegato a governarlo. Nel paganesimo il mondo è ente cosciente consapevole che costruisce a sé stesso nell'infinito dei mutamenti e le coscienze di sé che sono presenti nel mondo sono presenti anche nell'intuibile del mondo stesso. A loro volta esse contenute nel mondo intuiscono il mondo, nessuno parte, proprio perché nessuno parte intuiscono il mondo mentre il mondo le intuisce. Nello stesso modo possiamo dire che ogni essere, ogni consapevolezza si nutre attingendo dal mondo in cui vive e il mondo la contiene arricchendosi della sua intuizione. Alla base di questo c'è l'intera filosofia della relazione dialettica fra gli enti che componendosi compongono il mondo oppure essendo gli enti parte diversa del mondo e formando il divenire del mondo stesso, attraverso le proprie modificazioni. Con questo sistema di pensiero dobbiamo affrontare ogni insieme di cui siamo parte o di cui intendiamo intuire quanto in esso contiene, trasferirlo nella nostra coscienza e nella nostra consapevolezza e riportarlo dopo averlo trasformato nell'insieme dal quale abbiamo attinto. Con questo sistema dobbiamo tenere presente che la nostra conoscenza si sviluppa in un insieme che la contiene e di cui è parte interagente e separata dal tutto. Da qui il concetto di Dio pagano. Il Dio, nel paganesimo, è colui che intuisce quanto lo circonda. Il Dio nel paganesimo è colui che nutrendosi da quanto lo circonda, proprio attraverso il suo nutrirsi, nutre quanto lo circonda arricchendolo. Questo processo di interazione è uguale in ogni manifestazione della vita, sia all'interno dell'essere natura e dei suoi processi biologici, sia nell'infinito dello sviluppo del fuoco, della conoscenza e della consapevolezza. E questa relazione fra intuibile che in sé stesso l'intuente contiene è uno degli elementi più importanti nel paganesimo. Però questo è uno degli elementi più importanti, io l'ho ripetuto non so quante volte, però mi sto accorgendo che potrei ripeterlo sempre, perché sembra che ogni frammento sia una perla di conoscenza che ci è rimasta dal 200, dal 100 dopo Cristo fino ad oggi. Ogni frammento è una scheggia di stragonaria, è una scheggia importantissima, per cui mi troverete sempre a dire che è una cosa importante, purtroppo mi ripeterò. Passiamo al 21, al frammento 21, è tutte le cose ma noeticamente. Cosa significa noeticamente? Significa che la qualità che rappresenta tutte le cose in modo noetico è pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, sentimento. Tutte le qualità che possedute dagli oggetti le qualificano come dei nella misura in cui queste vengono ricercate attraverso la volontà e le determinazioni specifiche del soggetto. Il Dio che cresce dentro ogni essere lo può fare nella misura in cui l'essere che alimenta il Dio che cresce dentro di lui esercita la propria volontà e le proprie determinazioni, esprime cioè il suo stato noetico o, se preferiamo, alimenta il proprio pensiero, esercita la propria intenzione, alimenta i propri scopi e i propri progetti, il proprio intento, sviluppa l'articolazione del suo pensiero e la sua capacità di giudizio, alimenta il proprio sentire. Le cose diventano altrettanti dei, purché esercitano il proprio esistere in maniera noetica. Proprio perché esercitano il proprio vivere in maniera noetica, lo sviluppo nell'infinito dei mutamenti le attraversa. Esse alimentano le trasformazioni fino a costruire la coscienza universale. Si può anche dire che il padre, necessità e intento, attraversa tutte le cose noeticamente, noeticamente, cioè riversa nelle cose la propria volontà e le proprie determinazioni di cui le cose si appropriano per sviluppare i loro percorsi. Un padre e una madre versano nel figlio la scintilla divina, ma quella scintilla divina, pur essendo ceduta dal padre e dalla madre, non è più né del padre né della madre, ma appartiene al figlio. Così l'energia vitale che si muove, immota nell'universo nel momento stesso in cui una sua parte diventa cosciente di sé, cessa di essere parte di un tutto inconsapevole per cominciare a percorrere un sentiero di formazione della propria consapevolezza. Quella scintilla che apparteneva allo spazio silente ora diventa vortice tumultuoso e rumoroso nella formazione della coscienza. La qualità noetica è la qualità intrinseca dell'energia vitale che occupa lo spazio. La qualità dell'energia vitale la costringe a delle trasformazioni, il cui fine è il passaggio dall'inconsapevole al consapevole. Il consapevole esercita la propria volontà e attraverso questo somma la propria qualità intrinseca alla qualità dell'energia vitale inconsapevole. Lo sviluppo noetico del soggetto avviene quando l'uso della volontà e la pratica delle determinazioni accumulate portano l'individuo ad ampliare e sviluppare quanto la qualità base dell'energia vitale spingeva, quando cioè alla forza del padre, necessità e intento viene a sommarsi dalla determinazione del soggetto di farsi Dio esercitando la propria volontà. Allora perché diciamo tutte le cose manoeticamente? Perché nella misura in cui parliamo di coscienze, queste coscienze sono cose ma esercitano la loro capacità noetica, cioè in pratica esercitano il loro pensiero, il loro scopo, la loro intenzione, la loro consapevolezza di proprio sentire. Solo in quel momento quelle cose le consideriamo come coscienza, altrimenti quelle cose non le consideriamo come coscienza. E passiamo al frammento 22. Dice il frammento 22, il nous del padre disse che in tre tutte le cose fossero divise. Reggendo tutte le cose con il nous del primissimo eterno padre, accennò il suo volere, già tutte erano divise. E qua è una sfida con i cristiani, o meglio con quello che i cristiani hanno rubato ai pagani, che è più giusto dire questo. La qualità dell'esistente, l'esistente fondamentale e l'energia vitale. L'energia vitale ha qualità intrinseche che determinano le sue trasformazioni. Come l'ovulo fecondato dallo spermatozossi sviluppa in quella e solo in quella direzione, così l'energia vitale può muoversi in quella e solo in quella direzione. Data la sua qualità specifica, lo sviluppo è solo quello. Ma lo sviluppo è dato soltanto dal movimento e il movimento non produce le cose, ma sposta, riempiendolo, nello spazio la staticità consapevole di cui è espressione. Inconsapevole, scusate. Qui c'è un errore inconsapevole. La staticità inconsapevole non è cosa, non è oggetto, è parte indistinguibile del tutto, ma il tutto non ha consapevolezza. La cosa è parte del tutto, la cosa acquista consapevolezza, la cosa determina la direzione del proprio sviluppo, la cosa unisce se stessa alla qualità che la prodotta e ne somma la propria volontà. La cosa è dunque il Dio che si separa dal tutto, la sostanza che la regge, la necessità che lo conduce e la volontà soggettiva che sceglie tempi e modi per le proprie trasformazioni. L'energia vitale, fonte della vita, elemento base di ogni coscienza, necessità come presenza del padre primigenio che spinge l'energia vitale, la induce a trasformarsi in coscienza di sé modificando la propria vibrazione interna, volontà come capacità del soggetto di determinare la direzione delle proprie trasformazioni, volontà soggettiva che si sovrappone al padre, necessità, per determinare le scelte che portano all'infinito dei mutamenti. La cosa riconosce se stessa e determinando le proprie trasformazioni davanti all'infinito afferma, io esisto, io sono un Dio, io rivendico il mio diritto all'infinito. Il diritto all'infinito è l'intento, è l'intento dell'essere che riconoscendolo lo pratica dilatando se stesso, è l'intento dell'energia vitale che espandendosi attraverso necessità si trasforma in coscienza proprio per raggiungere e rivendicare il diritto all'infinito. L'intento, espressione e qualità del padre si somma, ampli e modifica attraverso l'intento percepito e trasformato dal soggetto che lo pratica attraverso la propria volontà. Come nello spermatozoio nell'ovulo il padre cessa per trasformarsi nel figlio, pur tuttavia è senza base dalla quale il figlio costruisce se stesso, così necessità e intento sono l'essenza base dalla quale nasce il Dio, nella misura in cui esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni tende ad espandersi. Tutte le cose sono rette dal nous, del primissimo eterno padre, che significa che tutte le cose sono rette da necessità e intento. Il volere di necessità e intento è il loro permanere in esistenza. Tutte le cose sono rette da questa diade, diade statica e inconsapevole che si muove in modo caotico nel cosmo fin tanto che le condizioni del suo movimento non formano la coscienza. La coscienza è un frammento di riconoscimento soggettivo che si separa dall'oggettività che la contiene e alla diade che l'ha generata somma la propria volontà. Tutte le cose sono divise in tre nella misura in cui l'intento della divisione è il passaggio dell'inconsapevole alla formazione della coscienza e il percorso nell'infinito dei mutamenti. Cos'è la triade base? La triade fondamentale di tutte le coscienze esistenti è necessità ed intento, necessità è il movimento dell'energia vitale, una sua qualità. L'intento è il passaggio inevitabile dall'inconsapevole al consapevole, al di là di come ciò avviene. Allora abbiamo una diade che è necessità e intento. Ma quando nasce la coscienza, quando la coscienza riconosce se stessa, somma alla necessità che l'ha generata la propria volontà. E allora abbiamo una triade, necessità, intento e volontà. Questa è la triade infinita, la triade in cui tutte le coscienze sono formate da questa triade. E sono coscienze proprio perché questa triade è la loro base. Ma ciò che trasforma dall'inconsapevole al consapevole e lo mantiene in intento è la volontà soggettiva, la volontà del soggetto di scegliere all'interno delle opzioni che ha davanti la migliore strada per sviluppare se stesso, non fa altro che aggiungere la volontà alla diade che l'ha generata, cioè necessità in intento, e in quel momento si fa Dio. Quando è che non abbiamo più un Dio, per esempio il cristiano in ginocchio davanti al suo Dio pazzo che pretende di averlo generato dal nulla, bene, rinuncia all'uso della propria volontà per rimettersi alla provvidenza divina. Questo rinunciare alla propria volontà praticamente egli cessa di essere un Dio, aspetta solo la sua distruzione, ha rinunciato a determinare se stesso. Allora qui non abbiamo più un Dio. È vero, sta vivendo, si sta muovendo, sta scegliendo, magari anche accenderà roghi, ma non c'è più la capacità di espandersi nell'infinito dei mutamenti. C'è la rinuncia a questo in quanto si delega questo, a proposito del discorso del delegale con Franco prima, si delega questo al Dio padrone. Delegando questa soggettività al Dio padrone si rinuncia alla determinazione della propria volontà nell'oggettività in cui si vive. Rinunciando a questo resta necessità e intento che ci ha generati, che ci ha portati a essere quello che siamo. Ma non si fa altro che attendere di morire, si fa altro che attendere la fine dell'agonia, perché quando non si usa la propria volontà si è cessato di percorrere l'infinito dei mutamenti. Dopodiché si può sperare solo nel Dio padrone. Passiamo al frammento 23. Affinché una triade contenga tutte le cose, tutte commisurando. Questo è il frammento numero 23. Affinché una diade contenga tutte le cose, tutte commisurando. La triade contiene tutte le cose. Le contiene non perché tutte le cose sono nella triade, ma perché la triade può formare tutte le cose che sono formate. Le cose che non sono formate in qualche caso avrebbero potuto essere, ma sono state scelte dalla triade stessa. La triade sceglie. Sceglie seguendo la propria volontà e le proprie determinazioni in base al proprio divenuto. Nello scegliere la triade produce delle cose, produce un presente che è frutto anche delle proprie scelte. La triade contiene l'esistente in quanto la triade costruisce l'esistente in relazione a tutte le triadi che con lei costruiscono se stesse. Costruendo se stesse si adeguano alle cose producendo cose nuove e nuove situazioni che al veggente possono apparire come contenute nella triade quando invece sono un prodotto delle scelte della triade. La scelta della triade produce condizioni e situazioni nuove, modificando se stessa e le triadi che le stanno attorno, modificando le situazioni in cui le triadi commisurando si adattano trasformandosi. Ed ecco che la triade diventa un soggetto cosciente e consapevole, che definiamo Dio in quanto la necessità che la generata si è trasformata in volontà e l'intento universale si è trasformato in intento soggettivo. Ed ecco che la triade separa se stessa consapevole dall'inconsapevole circostante. Nel separare se stessa dall'inconsapevole circostante, la triade soggetto definita nello spazio forma una triade del tempo, la triade del mutamento. Il processo di trasformazione della triade Dio determina le relazioni attraverso le quali espandere se stessa, riconosce se stessa come soggetto diverso dall'oggettività che la circonda ed agendo sull'oggettività trasforma se stessa, essere, non essere, divenire. Quando la triade riconosce altre triadi, la qualità delle relazioni cambia, in quanto si possono sommare volontà ed intenti diversi e specifici come rappresentazione dell'intento assoluto, la costruzione della coscienza universale, ma la relazione è sempre definibile come essere, non essere, divenire. Questa triade temporale si fonde con la triade spaziale, dove un soggetto riconoscendo se stesso necessita per continuare le proprie trasformazioni, la fusione con soggetti diversi, uguali, complementari, un po' come avvenne quando un essere unicellulare si fuse con altre cellule per diventare un essere pluricellulare e migliorare i processi costruttivi della propria coscienza, sia per sé che per migliorare le possibilità dell'oggettività in cui viveva. La fusione della triade spaziale con la triade temporale porta alla nascita di una triade che definiamo soggetto-soggetto-divenire, dove la somma dei soggetti determina una coscienza che comprende le coscienze che la compongono e attraverso questo una sua coscienza con la quale continua la relazione, sia spaziale che temporale. Tutto è triade e la triade contiene tutte le cose, in quanto tutte le cose sono emanazioni della triade stessa. Allora, noi abbiamo delle altre triade in realtà, cioè quelle che vi ho detto adesso, necessità, intento, volontà e la triade è fondamentale di ogni coscienza. Ma ogni coscienza non è sempre uguale a sé stessa, ogni coscienza va in trasformazione continua. Essere e non essere e divenire è il movimento della trasformazione della coscienza. E lo abbiamo sempre universalmente questo processo. In realtà abbiamo anche degli altri processi che sono triadici, che si possono vedere come triadici, ed è carica-scarica del rilassamento. La triade o quadria, da seconda se si vuole leggere, è la reichiana, che è il processo di dilatazione delle tensioni della coscienza e del suo sviluppo. Cioè, noi quando stiamo per fare qualcosa, ci carichiamo in realtà, ci carichiamo di energia, ci carichiamo di tensione, poi affrontiamo la cosa e scarichiamo la nostra energia, la nostra tensione, dopodiché una volta risolta la contraddizione non andiamo in rilassamento. Questo processo di carica-scarica non è che scarichiamo la stessa quantità di energia che abbiamo caricato. In realtà questa costruisce un'esperienza che ci carica. Cioè, noi ci carichiamo ogni volta che affrontiamo una contraddizione. Per cui esistono altre triadi su cui viene costruito l'infinito, su cui viene costruita l'oggettività. Però, quando il leggente altera la percezione, la triade fondamentale che gli permette di riconoscere una coscienza di sé, cioè un Dio. Da un non Dio, cioè da una non coscienza di sé, è necessità, intento e volontà. Essenzialmente il subcolore che vede nelle linee di tensione è quello della volontà, la volontà specifica e la qualità della volontà. Ma questo è un altro discorso ancora. Bene, io con gli oracoli caldaici per oggi mi fermerei qui. Questo discorso di necessità, intento e volontà andremo avanti sempre a ripeterlo per un sacco di tempo. Perché questo? Perché cambiando il concetto di nascita della coscienza, il concetto cosmologico, noi cambiamo anche il concetto di guardare il mondo. Cioè, dal concetto della cosmologia, dal concetto della nascita dell'universo, dal concetto della formazione delle coscienze, noi cambiamo il nostro modo di rapportarci col mondo. Se io dico che le coscienze, gli dèi, gli esseri umani nascono per necessità, intento e volontà, cioè questa è la triade che forma la loro coscienza, perché questa è una qualità della materia, una qualità dell'esistente, significa che io per migliorare me stesso devo migliorare la relazione fra me, la volontà, il mondo circostante, devo lavorare su di me e devo lavorare sul mondo. Se invece io dico che il mondo è stato creato da Dio, significa che io non posso modificare la creazione del Dio padrone, perché la creazione del Dio padrone è assoluta e immutabile, per cui io non posso più lavorare per modificare me stesso, ma devo distruggere me stesso per sottometterlo al Dio padrone. Cioè la verità fondamentale della creazione del sinichilo, creazione del nulla, non fa altro che sottomettere me a quel concetto. Per cui io non ho più niente davanti, ho il vuoto, ho l'abisso, ho il nero, perché sto sottomettendo a me stesso al Dio padrone. Cioè il Dio padrone è la luce, è il Dio padrone al quale io devo assocettarmi. Se io invece cambio la concettualità della formazione dell'universo, cambio il senso delle cose, do un altro senso all'esistenza delle cose. Quando io dico per esempio il concetto tutte le cose crescono per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, significa che c'è una volontà intrinseca del soggetto di adattarsi al meglio a quanto esiste. Non esiste una volontà definita, ma esiste un percorso di adattamento del soggetto a quello che lo circonda. Naturalmente se quello che lo circonda è formato anche quello di soggetti, anche loro effettueranno il loro adattamento, per cui tutto l'universo si muove per adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Qualunque siano le variabili, qualunque siano le coscienze, siano i segalassi, galattiche o quelle del virus. Per cui abbiamo un movimento universale. Allora se io dico questo significa che io devo agire al meglio rispetto al mondo che mi circonda, devo essere responsabile per costruire il mio essere, il mio corpo luminoso, le mie energie, per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ma se io dico all'inizio del mondo c'è un Dio che determina una volontà determinatrice, una volontà creatrice, allora io non devo più essere responsabile di quello che faccio, perché tutto quanto è delegato e demandato alla volontà creatrice, la quale si può divertire se mandarmi all'inferno il padre di Dio a giocare con me, farmi reincarnare, tutte queste cazzate in pratica sono determinate da una volontà creatrice. La volontà creatrice o la volontà determinatrice a seconda di come vogliamo vittere distruggono la capacità dell'essere umano, la capacità di qualsiasi essere di determinare se stesso. Cioè tutto è distruggibile, si può distruggere qualunque cosa perché qualunque cosa si faccia comunque non si può in ogni caso distruggere la creazione. Cioè la creazione è superiore all'essere umano, l'essere umano qualunque cosa fa non distruggere la creazione. Per cui è irresponsabile, l'essere umano è irresponsabile davanti al mondo. Mentre invece partendo dal fatto che necessità, volontà e intento sono le qualità alla base della costruzione di ogni coscienza e di ogni consapevolezza, io devo usare al meglio la mia volontà per adattarmi al meglio nel mondo che mi circonda, scegliere al meglio per costruire il me stesso e nello stesso tempo scegliere al meglio per costruire le condizioni migliori nelle quali io e gli altri possiamo esistere. Costruendo le condizioni migliori, non sempre le condizioni sono, come i cristiani dicono, perfette. Nel senso che lo storione butta 10.000 uova nel torrente, di 10.000 uova nascono 3 storioni, 4 storioni, 5 storioni. Ma quelle sono le condizioni al meglio. Perché lui non potrà mai impedire che gli altri si mangiano le sue uova di storione. Però magari migliorando invece di 10.000 può buttarne 12.000, magari invece di 4 nascono 5 storioni. Noi cerchiamo sempre di adattarci al meglio in quello che esiste la vita proprio perché dobbiamo costruire al meglio noi stessi. Naturalmente viviamo in un equilibrio di adattamenti e in questo equilibrio di adattamenti c'è il gioco dell'essere in natura. Cioè l'essere in natura non potrà mai dire, non so, il piede deve avere il sopravvento sul cervello o il cuore deve avere il sopravvento sui polmoni. Dovrà sempre mantenere un equilibrio fra tutte le sue parti in modo di svilupparsi al meglio. Per cui, attenzione, siamo in un gioco vorticoso, in un brodo primordiale che è sempre in movimento e sta sempre ribollendo e noi siamo la sua parte. Bene, in questo momento fermiamo gli oracoli caldaici, prossima volta continueremo col principio 24, col frammento 24 e andremo avanti moltissimo e facendo felice qualche radioascoltatore i concetti li martelleremo, li martelleremo, li martelleremo. Anche spesso negli oracoli caldaici ho visto che il loro ordine va avanti, poi torna indietro, passa fra gli esseri della natura, fra gli dèi, nella cosmologia, inizia e inizia, poi torna, cioè non esiste un ordine preciso. Ricordiamo che i frammenti sono stati presi da quello che sono stati i commenti di Procolo, i commenti di Damascio e altri commenti al platonismo, cioè ai vari dialoghi platonici, al timeo e tutti gli altri, insomma, insomma, mi ricordo anche più. In questi commenti ci sono questi frammenti inseriti all'interno delle frasi, naturalmente questo personaggio qua che ha scritto per la Burr si è ricavato tutti i frammenti dandogli un suo ordine e vi assicuro che questo ordine è veramente notevole dal punto di vista della stragonaria. Bene, detto questo mi prendo un altro minuto di pausa e poi vi comincio a leggere qualcosa. Prima di leggere della rassegna stampa che prenderò a telefonate, vi leggerò però un pezzo del Quan Tzu. Che cos'è il Quan Tzu? E' un libro dei taoisti. Perché vi leggo un libro dei taoisti? Perché è molto bello il Quan Tzu. Comunque vi leggerò questo racconto. è molto più semplice il Quan Tzu di quello che vi leggo io. Il Quan Tzu dà degli elementi di meditazione molto molto più semplici. Perché ve li sto leggendo? Perché il Quan Tzu fa parte della triade dei libri taoisti, quei libri che possono essere tranquillamente sotto molti aspetti, non al cento per cento, ma sotto molti aspetti presi nel paganesimo popoliteista. Naturalmente noi non lo facciamo perché questo? Perché il taoismo è abbastanza importante come sistema religioso in sé e se noi prendessimo quei libri e li prendiamo prenderemo anche le cose negative del taoismo e questo non ci sta bene. Però vi leggo perché vale la pena di leggere tutti e tre. La regola celeste di Lao Tzu è uno. Il Quan Tzu, un pezzo che vi leggo adesso, e il terzo sono i King, quelli che si possono fare anche come oracoli. Sono i tre libri fondamentali del taoismo, della filosofia taoista. Poi ci sono le pratiche sciamaniche, ci sono altre cose. Vediamo cosa ci dice Quan Tzu. Vi leggo il racconto 130, le pubblicazioni della Tea. L'intagliatore King aveva scolpito del legno per farne un supporto di campane. Quando questo fu finito, chi lo vedeva rimaneva incantato, come se fosse opera di esseri sovrannaturali. Il marchese di Lu venne a vederlo e chiese, con quale arte l'hai fatto? Il suddito è un artigiano? Rispose quello. Quale arte avrebbe? Tuttavia c'è una cosa. Quando il suddito si accinse a fare questo supporto, non osò difettare di chi, ricordiamo cos'è il chi, il chi è l'energia vitale, e digiunò per rendere il cuore calmo. Dopo aver digiunato per tre giorni, non osavo più pensare alle congratulazioni, alle ricompense, ai grandi e agli emolumenti. Dopo aver digiunato per cinque giorni, non osavo più pensare alla lode o al biasimo, all'abilità o all'inettitudine. Dopo aver digiunato per sette giorni, avevo completamente dimenticato di avere le quattro membri del corpo. A questo punto non c'era più né ducca né corte, restava solo l'abilità estragnata da ogni incertezza o distrazione. Dopo di ciò, andai nelle foreste montane ed esaminai con cura il tronco che fosse il migliore per qualità naturali. Allora vidi perfettamente il supporto e vi misi mano, così il cielo si è incontrato col cielo. Sarà questo a far dubitare che l'oggetto sia opera sovrannaturale? Questa è un raccontino del Quanzo. In pratica cosa diceva questo? Cosa dice questo? A parte il discorso del digiunare, a parte questi discorsi. Il problema è questo. Questo personaggio, questo artigiano, si è messo a fare un lavoro. Ma per fare quel lavoro ha concentrato tutto se stesso per fare quel lavoro. Non gli interessava prendere i soldi, non gli interessavano le lodi e ha dovuto mettersi nelle condizioni per estragnarsi dal mondo e per essere tutt'uno con quel lavoro. In quel momento lui poteva fare quel lavoro e quel lavoro non era più un semplice fare, ma era un'opera di magia. Cioè lui ha costruito l'interazione fra sé e il mondo per riuscire a ottenere quel risultato. E quel risultato non è più opera di un lavoro, ma è un'arte di magia. Per cui dico lasciamo per la religione, eccetera, perché è una pratica specifica, è un modo specifico di dire. Però quando noi ci apprestiamo a fare un'operazione di magia, che è così importante, dobbiamo prepararci. Dal punto di vista del paganesimo romano diremmo noi dobbiamo lustrarci, dobbiamo lustrare i nostri attrezzi, dobbiamo lustrare la nostra mente, dobbiamo lustrare il nostro corpo, la nostra energia vitale, dobbiamo prepararci per essere tutt'uno con l'oggetto che andiamo ad affrontare. In questo caso parla invece di digiuno in questo senso. Naturalmente noi non siamo d'accordo con questo, cioè non siamo d'accordo con le pratiche. Però l'importante è preparare tutto se stessi per raggiungere l'obiettivo. Per raggiungere l'obiettivo, comunque sia, l'arte magica è già stata fatta perché abbiamo preparato noi stessi. La preparazione di noi stessi è l'operazione di magia. A questo punto può ben dire così il cielo si è incontrato col cielo. Cioè il cielo che aveva dentro, che aveva lustrato, che aveva preparato dentro di sé, si è incontrato col cielo dell'oggettività che lo circonda ed ha portato il risultato all'intento che lui aveva. Ma l'intento non era più solo l'intenzione della ragione, era diventato un suo fare magico. E questo è un racconto di Quanzù. Un giorno o l'altro ve ne racconterò degli altri racconti di Quanzù. Bene, detto questo, passiamo pure alla rassegna stampa di oggi. Rassegna stampa di oggi. La rassegna stampa. Cosa ci serve a noi la rassegna stampa? Si serve essenzialmente per definire il male, per definire cos'è la pratica della religione cristiana, della religione cattolica. Vediamo un attimo della Repubblica. La Repubblica del 6 maggio 1999. Naturalmente se qualcuno vuole telefonare, prendo le telefonate anche se sapete come la penso. Dalla Repubblica del 6 maggio 1999 e l'inserto salute. Dice il caso. Non ci fu trapianto per un miracolo e per celtroneria. Il giovane si svegliò dal suo sonno profondo e quelli che erano intorno gridarono al miracolo. Il giorno successivo un professore di fama, Raffaello Cortesini, senza ascoltare le parole dei medici curanti, dichiarò solennemente che l'evento aveva qualcosa di sovranaturale. D'altronde, come poteva essere diversamente. Con la vicina beatificazione di Padro Pio, il miracolo era nell'aria e tutti i mezzi di comunicazione di massa, con in testa televisioni pubbliche e private, spiegarlo agli italiani che di evento divino si trattava. Poi si scoprì quello che già si sapeva, ma che era stato dimenticato perché altrimenti la verità dei fatti non avrebbe permesso all'informazione di gonfiare e di stravolgere l'avvenimento. E così fu chiarito che il giovane ricoverato all'ospedale maggiore di Modica, Giorgio Rinzivillo, si era svegliato anche perché il suo stato di coma profondo non era irreversibile. E conclude l'articolo, nessuno rifletteva sulla superficialità delle notizie fornite dai medici che assistevano il ragazzo e sulla disinformazione di alcuni media nel raccontare l'accaduto. Insomma, quel giorno, mentre un giovane era in gravi condizioni, si consumò il matrimonio tra cialtroneria e sopranaturale. Mi ricordo un attimino una notizia, diceva che gli hanno dato il santino di padre Pio e subito è guarito, hanno già preparato per spianto di organi, lo stavano già strapiantando. Questa si chiama cialtroneria e cialtroneria sono tutti gli interventi attribuiti al cosiddetto padre Pio. Cialtroneria. È solo una questione di furbizia, in questo caso sono stati un po' rozzi, ma sono tutti cialtronaggi. Dopodiché sfido sempre qualcuno a provare il contrario. uccisa dall'ex marito davanti alla discoteca. Sì? Uccisa dall'ex marito davanti alla discoteca. Salsano. Una donna è stata uccisa ieri sera dal marito a colpi di pistola all'uscita da una discoteca di Salsano nel Veneziano.